Derek Zoolander, mi serve il suo aiuto. È gnocca, io mi fido. Quando la gente più bella del mondo è in pericolo... Bella mondo. Lui se la dovrà vedere... Con un'espressione che non indossava danni. Dov'è il mio dannatissimo latte? Attento, cercherà di entrarti nella testa. Tranquilla, è chiuso per ferie. Zoolander 2. Tirami il coltello! Enchilo! Ragazzi, voi siete i peggio. All'11 febbraio al cinema. Grazie per la visione!